a tutti voi, lo dico sinceramente perché poi l'impianto di depurazione non è un'opera di uno schieramento o di un altro, di un partito, di un altro, di una corrente, di un altro, quella è un'opera che non deve avere barriere politiche e non deve essere motivo di scontro politico, non può esserlo, la scuola, la qualità della vita, la qualità delle acque non possono essere motivo di speculazione politica e non possono essere guardate in maniera artificiale o artificiosa cosa ancora più grande.